Il mare per me è una forte passione che dà un senso quasi alla vita, che mi fa sentire vivo. La passione per il kite mi è nata provando, l'ho visto fare su alcune riviste perché in Italia non esisteva ancora. Ho cercato di questa attrezzatura che non esisteva, l'ho aspettata mesi, me la sono anche autocostruita per farci provare e alla fine ho provato e è stato amore a prima vista. Le emozioni che provo facendo kite sono essenzialmente quello della libertà perché siamo sospesi tra mare e cielo e siamo un tutt'uno con il vento. La surfata che ho nel cuore sicuramente è sempre la prossima, essendo una droga uno pensa sempre alla prossima, a cercare di farne un'altra. La mia più grande conquista è stata quella di riuscire a poter passare molto tempo sul mare, con la vita, con il tipo di vita che ho scelto. Penso che coinvolgere molta gente al salone nautico e presentare questi nuovi sport sia importante per la disciplina perché come dicevo io mi sono appassionato vedendolo, toccandolo con mano. Magari vedi una cosa su una rivista o la televisione e dici ah che bella, però non tiri mai dentro, mentre invece toccarla con mano è sicuramente molto più coinvolgente. Life is too short, don't waste it, go surfing. Questo è il nostro motto, questa è la nostra bandiera, conquistiamo il salone nautico. Vi aspetto dal 30 settembre al 5 ottobre. Grazie a tutti.